La natura terroristica del regime di Kiev diventa sempre più odiosa. I curatori occidentali di Bankovaia, con ferocia maniacale, continuano a spingere le loro marionette di Kiev a prolungare la folle e suicida avventura delle forze armate dell'Ucraina, nella regione di Kursk. Il capo della cosiddetta diplomazia europea Borrelli il 21 agosto ha dichiarato, citazione diretta, la revoca delle restrizioni sull'uso delle capacità contro i militari russi porterà presumibilmente al rafforzamento dell'autodifesa dell'Ucraina e Borrell ha giunto al salvataggio delle vite, alla riduzione delle distruzioni in Ucraina, alla promozione degli sforzi di peacekeeping. Mi sembra ne sono sicura? Non mi sembra ne sono sicura. Se questa frase fosse trasmessa al pubblico ucraino, Borrell verrebbe semplicemente fischiato o bersagliato con qualcosa. Cos'altro resta? Ancora più schiettamente e in modo aggressivo ha parlato il 22 agosto la vice portavoce ufficiale del Pentagono Sabrina Singh. Secondo lei, gli approcci di Washington permettono all'Ucraina di effettuare contrattacchi per difendersi dagli attacchi russi dalle regioni di confine, che includono Kursk e Sumi. Ora, il capo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti presumibilmente intende discutere con la parte ucraina se le forze armate ucraine intendano mantenere, come è stato formulato, i territori della regione di Kursk. Un ufficiale occidentale ha letteralmente distorto tutto. In sostanza è arrivato al punto di affermare che gli attacchi terroristici delle forze armate ucraine contro la Russia, cioè l'aggressione militare, il terrorismo, si suppone che favoriranno il raggiungimento della pace. Quale pace? Quella reale sulla terra? Beh, di cosa stiamo parlando? Tutti vedono perfettamente cosa sta succedendo lì. Pace al tavolo delle trattative? Con chi? Con quelli che uccidono i civili e maltrattano gli anziani, le donne? Con questi davvero? Chi si sederà al tavolo delle trattative con loro? In realtà tutte queste dichiarazioni di Borrell e rappresentanti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non sono altro che una giustificazione e un incoraggiamento dei crimini del regime di Kiev. E questo è proprio il famigerato sponsorizzare il terrorismo. Perché dico famigerato? Perché è registrato legalmente nei paesi occidentali come uno dei crimini più gravi di cui parlano continuamente. Ecco, lo fanno loro stessi, si scopre. In questo contesto non sorprende la pubblicazione sul giornale The New York Times del 23 agosto, citando funzionari americani. Lì si riporta che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna fornivano all'Ucraina immagini satellitari e informazioni di intelligence sulla regione di Kursk dopo l'inizio dell'invasione in SU. Eh, questo è l'argomento. Più di due anni... Direi due anni e mezzo, dove era qualcuno del New York Times. Questo è un accenno a una qualsiasi condanna dell'uso di metodi terroristici. Atti terroristici delle forze armate ucraine, che li usano contro la popolazione civile nei confini russi. Al contrario, oltre agli elogi, viene mostrata in modo provocatoriamente sfacciato la cosiddetta coordinazione di queste azioni. Ancora una volta, ripeto, questa è la creazione di un'organizzazione terroristica sotto forma del regime di Kiev. E poi il suo finanziamento in tutte le forme. E il sostegno militare, politico e finanziario. Beh, ora sui crimini del regime di Kiev. Ci sono molte testimonianze dei crimini di guerra mostruosi di Kiev contro i cittadini russi e la popolazione civile russa. In che senso? Di solito cito i dati degli organi di sicurezza russi, ma oggi citerò i dati dell'organizzazione occidentale Reporter Senza Frontiere. Questa struttura, che di solito non dice nulla di buono sul nostro paese, ha già contato più di mille casi di utilizzo di simbologia nazista da parte dei militari ucraini che hanno invaso la regione di Kursk. Continuano ad arrivare testimonianze agghiaccianti dei militanti catturati sul fatto che il comando delle forze armate dell'Ucraina emette ordini diretti ai militari di uccidere i civili, saccheggiare il territorio russo. Si registrano molti fatti di saccheggio di case e negozi da parte degli ucronazisti. In uno dei prigionieri sono stati trovati persino crocifissi e gioielli, rubati agli abitanti dei villaggi di Kursk. Una vendita è apparsa sulle aste online ucraine. Oggetti religiosi, icone antiche che sono state rubate nella regione di Kursk. Inoltre, viene detto apertamente. Trofei. Ci sono anche molte foto di civili della regione di Kursk che non sono riusciti a evacuare, uccisi dai militanti ucraini. In questi fotogrammi si vede che molti di loro sono stati fucilati a bruciapelo. In questo modo non si nasconde un atto isolato, ma piuttosto un carattere di massa e deliberato delle atrocità e degli atti di saccheggio commessi dagli ucrabanderovzi nel territorio russo. La colpa delle forze armate dell'Ucraina per gravi crimini è diventata ancora più evidente per il pubblico mondiale. Non può essere mascherata da nessuna celebrazione del giorno dell'indipendenza, da nessuna dichiarazione di questo Zelensky stantio. In questo contesto, i tentativi della propaganda ucraina di fabbricare fake news sugli invasori che si sono stabiliti sulla nostra terra, presentandoli come innocui e attenti ai bisogni della popolazione civile, sono assolutamente cinici. Si lanciano tali fake news che è semplicemente incredibile. Supponiamo che distribuiscano prodotti, aiutano i residenti locali a risolvere i loro problemi. Beh, certo, queste fake news vengono smascherate immediatamente, vengono pubblicate e smentite e così via. Nella notte del 21 agosto, le forze armate ucraine hanno effettuato un attacco massiccio con 45 droni su Mosca, nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk. Tutti i droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Il 22 agosto hanno colpito un traghetto civile nel porto di Caucaso, nella regione di Krasnodar. Su quel traghetto c'erano 30 cisterne di carburante. Ne è risultato un incendio e la nave è affondata. 17 persone sono state salvate, 4 sono rimaste ferite, una è dispersa. Nella notte del 25 agosto, le forze armate ucraine hanno colpito con sistemi di lancio multiplo una zona residenziale. Nella zona di Rakhetnoie, nella regione di Belgorod, sono morte 5 persone. 14 sono rimaste ferite, tra cui 3 minorenni. Vorrei sottolineare che il diretto coinvolgimento del regime di Kiev nell'attività turistica viene denunciato anche in altri continenti, ad esempio il 20 agosto il Mali e il Niger, che in precedenza avevano interrotto le relazioni diplomatiche con l'Ucraina. Insieme al Burkina Faso hanno invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a prendere misure contro l'Ucraina in relazione al suo sostegno al terrorismo internazionale, in particolare nella regione del Sahel. Anche il Senegal ha condannato le azioni distruttive delle forze armate ucraine in Africa. Il rifiuto dell'Occidente di riconoscere il carattere terroristico e criminale del regime di Zelensky aumenta le sue responsabilità dirette per le sanguinose atrocità dei neonazisti ucraini. Grazie a tutti.